Buongiorno a tutti, l'argomento della conferenza di Villa Greppi per l'arte di oggi è un tema che è nato per la presenza di una mostra molto bella al castello di Novara, una mostra dedicata al divisionismo italiano. Purtroppo oggi non possiamo andare a vederci questa mostra per i motivi che sappiamo e quindi come sempre Villa Greppi vi porta la cultura a domicilio e faremo ugualmente il nostro incontro attraverso un video. Vi racconterò non la mostra del castello di Novara ma come di consuetudine per le nostre conferenze serali di Villa Greppi per l'arte parleremo in generale del divisionismo e dei suoi grandi protagonisti. Parleremo del divisionismo italiano quindi della scena italiana, della pennellata divisa, di questo nuovo concetto, di questa nuova tecnica pittorica. Ma per capire che cos'è il divisionismo possiamo tranquillamente partire dalla Francia facendo riferimento a un'opera straordinaria che è quest'opera del 1884, esposta nell'86, all'ultima mostra del movimento impressionista. L'opera è di un artista poi molto noto, purtroppo morto anche piuttosto giovane e quindi non ha prodotto tantissime opere, questo artista è Georges Sorat, il padre del divisionismo francese. Perché partiamo da Sorat? Perché nell'esempio di Sorat capiamo una serie di cose anche dal punto di vista tecnico, aprendo lo sguardo sull'Europa, che ci aiuteranno poi a capire alcune similitudini nell'ambiente italiano anche se vedremo che la scena italiana è per altri aspetti molto differente, anche semplicemente per dove affonda le radici. Il divisionismo francese, cioè il pontiisme, affondano le radici nell'impressionismo. Il divisionismo italiano invece ha tutt'altro humus da cui sorgere. Partiamo però dalla scena parigina. Nel 1886 gli impressionisti aprono quella che sarà la loro ultima mostra. Già molti dei grandi nomi dell'impressionismo hanno smesso di essere presenti. Renoir aveva lasciato anni prima al gruppo, lo stesso aveva fatto Monet. Tra i pochi a essere ancora rimasti fedeli ci sono Degas, Bert Morisot e Camille Pissarro che tra l'altro sulla scorta del figlio Lucien era diventato lui stesso, diventerà lui stesso un pittore divisionista, un pittore pontiiste. Che cosa espone il giovane Sorat? Lasciando tutti senza parole Degas per primo che si lamenterà della presenza di quest'opera nella loro esposizione giudicandola totalmente fuori luogo, giudicandola a tratti anche incomprensibili. Sorat presenterà questa Grand Jatte, una domenica pomeriggio alla Grand Jatte, opera del 1884 come vi dicevo, che come vedete ha un soggetto che potrebbe tranquillamente essere definito un soggetto impressionista. La domenica pomeriggio, la senna, il passeggio, insomma l'aria aperta, gli svaghi domenicali della borghesia, tema assolutamente diffuso anche nelle opere degli impressionisti. Ma è come lo ritrae Sorat ad essere profondamente innovativo? Perché Sorat dà a questa scena una logica quasi matematica, un'evidenza vitrea, fredda, immobile, che è basata su precise teorie scientifiche con cui lui ha costruito il quadro. Innanzitutto l'opera, che è grande tre metri, quindi un'opera monumentale, è interamente realizzata per piccoli puntini di colore puro giustapposti l'uno all'altro, che visti da lontano ci restituiscono tutte le nuance, le sfumature della realtà, della consuetudine pittorica. Perché dividere i puntini di colore? Perché dividere il colore per singoli tocchi di colore puro? Perché Sorat aveva deciso di fare una cosa che lui stesso definirà scientificizzare l'impressionismo, cioè lui non vorrà fare qualcosa di diverso dall'impressionismo di Monet, di Renoir, di Sisley, ma vuole renderlo maggiormente tecnico, scientifico e per farlo che cosa fa? Spinge su un punto che gli impressionisti avevano ugualmente analizzato, ma lo avevano fatto senza renderlo teoria esatta, come invece farà Sorat, la questione della percezione ottica. Come vede il colore il nostro occhio? Che cosa succede al nostro occhio se io in un foglio bianco metto dei puntini rossi? Succede che per la teoria appunto dei colori complementari, di come noi percepiamo i colori complementari, il nostro occhio alla fine tenderà a vedere un alone verde. Il complementare del rosso è il verde ed è quello che si imprime nella nostra retina quando noi fissiamo una macchia rossa. Fateci caso, se voi guardate fisso un puntino rosso e poi distogliete lo sguardo, vedete un alone verde, cioè del suo complementare. Allo stesso modo il viola col giallo, l'arancio col blu, questo è ciò che produce il colore che si imprime nel nostro occhio. Queste teorie, per approfondirle, Sorat va a cercare delle risposte diciamo da alcuni personaggi importanti. Ad esempio va a intervistare un vecchio fisico ottico che si chiama Chevroel, che era specializzatissimo nell'ottica. Chevroel aveva studiato tutte queste teorie perché gli era stato chiesto di capire che cosa succedeva ai fili che componevano gli arazzi che inizialmente quando l'artista li sceglieva sembravano brillantissimi e poi quando venivano tessuti nell'arazzo si spegnevano di colore. A qualcuno dava la colpa come venivano lavorati, alla cattiva qualità del filo e invece no, è semplicemente una questione ottica. Chevroel scopre proprio questo per le razzerie di stato francesi che semplicemente se noi accostiamo due colori fra di loro reagiscono in modo diverso. Se noi mettiamo due complementari si accendono, se noi mettiamo invece due colori più simili si spengono e questa modifica della cromia una volta tessuto l'arazzo non era dato dal filo, era dato da come noi vedevamo il colore vicino agli altri. Su queste basi Sorà intervista quindi sulla simultaneità della percezione del colore, su una serie di questioni che gli servono poi per realizzare questo lavoro e altri lavori che a breve vi mostrerò che vanno nella stessa direzione. Quindi il colore non viene più mescolato sulla tavolozza e poi steso sulla tela, ma messo sulla tela a singoli tocchi di colore puro che guardati da lontano il nostro occhio è in grado di fondere e di riappropriarsi delle sfumature che il pittore ha voluto in qualche modo comunicarci, testimoniarci. Questo discorso sui complementari, sulla percezione del colore lo conosceva benissimo anche Monet, lo conoscevano benissimo anche gli impressionisti, è che i Ponti East ne fanno una teoria esatta. In più Sorà usa altre teorie pittoriche molto interessanti, per esempio la questione della sezione aurea, il calcolo proporzionale di due segmenti, della divisione di un segmento in parti armoniose e proporzionate, che era un concetto che veniva dalla matematica dell'umanesimo, Piero della Francesca costruisce i suoi quadri sulla sezione aurea, quindi si torna a un rigore matematico, a una conoscenza geometrica che non si vedeva dagli anni del Rinascimento in qualche modo, il tutto applicato con un'esattezza, un rigore che rende il quadro distaccato dalla realtà. Converrete con me che guardando la Grand Jatte noi abbiamo l'impressione di vedere un soggetto alla Renoir, ma che non ha la verità di Renoir, quella verità tangibile di vedere le persone che si muovono, che in qualche modo ci danno un'idea di vero. Se guardiamo altri dipinti di Sorà, tutto ciò diventa ancora più evidente. Guardate ad esempio il circo che è del 1890, quella ballerina non può stare su quel cavallo, il pubblico è appiattito, è bidimensionale, è sintetizzato, chiaramente qui subentrano tante conoscenze, non ultima quella delle stampe giapponesi, che nella seconda metà dell'Ottocento avevano fatto un disastro in Francia dal punto di vista della passione, della moda e non solo in Francia, il giapponismo cosiddetto, a cui noi peraltro abbiamo anche dedicato un incontro, è un fenomeno straordinariamente importante. Il giapponismo è una sorta di passione che diventa moda, ma che parte dall'esempio importante degli intellettuali, dei pittori che osservano le stampe giapponesi e scoprono una serie di questioni, la sintesi della forma, l'uso nuovo del colore, un nuovo senso della prospettiva e lo traducono nelle loro opere. Ecco quindi che dall'impressionismo al pontiism c'è una continuità da un certo punto di vista, ma un salto mortale da un altro punto di vista. Anche i seguaci di Sorà vanno nella stessa direzione. Guardate ad esempio questo lavoro di Signac, queste donne al pozzo, com'è luminoso, perché naturalmente con tutta questa teoria sulla percezione del colore della luce, non è più necessario per i ponti East dipingere un plein air. Si può rappresentare il valore luminoso della realtà senza dipingere dal vero, cosa che per un impressionista è abbastanza impossibile, diciamo quantomeno non approvabile. Con questo bellissimo dipinto di Signac vede anche questa nuova linea decorativa che prelude, con grande evidenza, alla linea poi che sarà del Liberty, dell'Art Nouveau, perché gli anni sono un po' quelli, gli anni di formazione di questo nuovo gusto estetico. Siamo alla fine dell'Ottocento e in parallelo a queste novità tecniche del divisionismo si sta sviluppando un altro movimento, altrettanto importante per la comprensione del divisionismo italiano, che è il cosiddetto movimento simbolista. Il simbolismo non è un movimento organizzato, il simbolismo è una tendenza, è un modo di sentire, è in qualche modo uno stato d'animo che coinvolge poeti, pittori, intellettuali, filosofi, letterati, uomini teatro, musicisti, da Debussy fino appunto a Knopf, fino a Felicien Robs, fino ai simbolisti più aggressivi del nord Europa. Lo stile simbolista non esiste, ogni pittore ha il suo stile, come padre del simbolismo potremmo citare ad esempio Gustave Moreau, che era di una generazione precedente rispetto agli artisti di cui stiamo parlando e che aveva inaugurato una stagione straordinaria con opere come questa che vedete nella fotografia, in cui già si sente pienamente l'apporto di questa nuova cultura figurativa e nello stesso tempo, quindi un soggetto molto molto interessante e nello stesso tempo c'è una distanza dall'impressionismo che gli è contemporaneo, siderale, e una distanza dall'accademia in cui i simbolisti comunque non entrano molto evidente. Con Gustave Moreau possiamo citare ad esempio Odion Redon, questi soggetti visionari, queste figure ibride tratte dalla mitologia, ma non una mitologia avvolgente, tranquillizzante, una mitologia un po' spaventosa, un po' terrorizzante, come ad esempio quella di un notissimo quadro di Knopf che si chiama La carezza, in cui c'è questo giovane, chiamiamolo Edipo, che abbraccia una pseudo sfinge, mezza donna e mezza gheppardo che è spaventosa nel suo atteggiamento affettuoso e sensuale e che prevediamo prima o poi sbranerà la vittima che ha appena seduto. Quindi questo mondo un po' terrorizzante degli incubi, il simbolismo si guarda dentro ed è figlio di una società in crisi perché gli impressionisti erano figli della società positivista, cioè erano figli di un mondo che credeva ancora nell'uomo, nelle sue possibilità, nei ritrovati della scienza, della medicina, della tecnica. Invece il simbolismo è figlio di una generazione che non crede più tanto a queste cose, anzi in qualche modo rimette un po' tutto in discussione e in questo rimettere in discussione si scatenano come ovvio che sia le paure più interiori, più nascoste e quindi si cerca il sogno, il mito, anche l'incubo certamente. Con questo mondo, unito a quello tecnico della rivoluzione pontiist, noi lo rincontriamo fuso, unito nella questione del divisionismo italiano che potremmo dire, banalizzando un po', gioca tutto su due binari. Da una parte quello appunto della pittura simbolica, della pittura simbolista, di una pittura che guarda al sogno, al simbolo, allo spirituale, al trascendente, all'immaginario e dall'altro invece una pittura profondamente attenta, legata e interessata alla questione sociale, perché il divisionismo italiano va anche in quella direzione. E spesso e volentieri questi due mondi si intrecciano. Se voi per esempio pensate a Segantini, ecco in Segantini noi abbiamo dei quadri esplicitamente simbolisti, dei quadri apparentemente naturalisti e interessati al vero, che in realtà nascondono ugualmente una lettura trascendente mistica e spirituale, quindi di nuovo simbolisti, in una sorta di continuo osmosi fra i mondi. Allo stesso modo Pelizza da Volpedo, che adesso naturalmente vedremo entrambi questi pittori oggi, Pelizza da Volpedo ha il quarto stato, icona della pittura sociale, del vero, dell'impegno ideologico e sociale e poi magari ha quadri come Speranze deluse che invece hanno una lettura ben più simbolica o ancora di più quel che l'una fa le altre fanno, questa umanità tradotta in un greggio, uno dei quadri più belli di Pelizza, che ci porta ad una lettura evidentemente e indubbiamente simbolista. Ma per capire il divisionismo italiano, così come per capire il pontillismo francese, ci volevano gli impressionisti, per capire il divisionismo italiano dobbiamo fare un piccolo passo indietro e guardare che cosa stava succedendo nell'arte italiana di quegli anni, perché in Italia si stava cominciando a scoprire in arte una questione sociale molto importante, che era appunto l'impegno sociale, la denuncia, il racconto delle classi meno abbienti, il racconto delle situazioni più difficili della vita quotidiana e tutta questa attenzione non arrivava per caso in questo momento della storia italiana, ci arrivava semplicemente perché l'Italia era arrivata proprio in questi anni all'industrializzazione, quindi quello che i francesi, gli inglesi avevano conosciuto già negli anni 50 dell'Ottocento arriva in Italia negli anni 80 e desta ovviamente l'interesse di molti artisti. Un caso abbastanza peculiare è quello di Carcano, che già negli anni 60 realizzava questo dipinto, questa piccola fioraia, un dipinto molto interessante perché è uno dei primi dipinti che ci dà una dimensione di interesse sociale pur nella sua morbidezza. i poveri, le classi più umili, gli emarginati sono stati da tempo protagonisti dell'arte, direi dal pitocchetto, direi dal 600 a voler ben vedere, ma il problema non è che venissero ritratti, ma come venivano ritratti? Perché fino ad allora dipingere la povera gente era sempre velata, era un'interpretazione sempre velata di una sorta di pietismo, quindi piccoli spazzacamini da cui viene voglia di fare l'elemosina, ragazzine che chiedono l'aiuto tendendo una mano, o giovani cuoche piacevoli, belle e che comunque stimolano in noi una sorta di buonismo, di pietismo, di moto di coscienza. Tutti i quadri in cui possiamo mettere ad esempio anche le opere degli Induno, che hanno un tasso di naturalismo, di verismo forte, ma che non cercano la denuncia sociale, ideologica, non cercano in qualche modo che questa nuova classe sociale, che comunque questo senso anche di emarginazione venga innanzitutto affrontato, si prenda coscienza e si affronti la questione sociale con maggior consapevolezza e persino con un tasso politico ideologico. Questo fino ad allora si era verificato solo ben raramente, c'è una scultura di Vincenzo Vela molto interessante in questo senso, si chiama Spartaco, più di così, lo schiavo che si ribella. Ecco Spartaco però è un caso molto precoce, poi Vela tornerà su questo tema con le vittime del lavoro, un'opera struggente con questi minatori che portano fuori in barella il loro compagno morto sul lavoro, con un'opera tristissima, molto forte, ma siamo già però più avanti, quando questo dibattito ha già coinvolto l'arte. Ecco, la fioraia di Carcano è un po' in mezzo, non è più così edulcorata, così dolciastra come capitava nelle opere precedenti, però nello stesso tempo non possiamo ancora vedere un'oggettività che porta invece poi alla vera e propria pittura sociale. Un quadro successivo di Carcano, questo già da un taglio differente. Questi sono gli operai che stanno fuori dalla cancellata di un luogo che chi frequenta Milano ben conosce, sono i giardini di via Palestro, stavano costruendo i padiglioni per l'esposizione del 1881, per l'Expo del 1881 e Carcano, vedete, li ritrae senza darci una volontà di commento di giudizio, li ritrae nella loro pausa pranzo, facendoli diventare in tutto e per tutto soggetto artistico pieno di dignità e anche con un certo interesse, grazie a un tipo di rappresentazione oggettivo, asciutto, senza sbilanciarsi troppo. In alcuni casi invece la questione sociale e quindi anche la volontà di denunciare una situazione è più esplicita. Se guardate per esempio le cucine economiche di Pusterla, vedete come Pusterla ci stia raccontando una realtà ben più triste, donne, bambini, anziani che ricevono un pasto, un pasto gratuito perché accolti appunto, perché indigenti, perché ai margini della società, sono tanti, hanno età diverse e questo dovrebbe muovere una riflessione, una riflessione che per alcuni artisti è rappresentata in modo così molto secco, senza grosso trasporto e quindi arriva ancora più efficace e con altri invece troviamo più un trasporto emotivo, più esplicito, ad esempio nei quadri di Teofilo Patini come questo, l'erede, direi che la tensione emotiva qui è fin troppo esplicita, questa figura di padre morto dalla fatica, distrutto dal lavoro, la madre che piange e questo piccolo neonato che però osservate bene è anche quasi un Gesù bambino, quindi questa tendenza spirituale sempre un po' lì che ci fa riflettere, che induce anche a una riflessione su classi sociali meno abbienti che era una riflessione importante per il tempo, è anche abbastanza azzardata, anche abbastanza importante dal punto di vista della novità perché non era così consueta che l'arte, non era così consueto che l'arte raccontasse questo disagio e lo faceva con toni più o meno espliciti in quadri appunto come questi. In altri casi si racconta potremmo dire la vita del lavoro, è un altro tema che prima era pochissimo presente nell'arte, il lavoro inteso proprio come lavoro fisico quotidiano molto spesso il lavoro nel passato era stato quello dei contadini, forse l'unico lavoro rappresentato dal punto di vista iconografico anche negli anni addietro ma invece ora il lavoro è anche quello anche in Italia e anche quello operaio. Questa è l'alba dell'operaio di Giovanni Sottocornola, vedete che al buio di un'alba milanese umidissima le persone escono nella nebbia e si recano al lavoro e vengono ritratte in questa bellissima tela che peraltro ha già qualche pennellata, qualche accenno di pennellata divisa come a breve vedremo in altri lavori. Ma anche la denuncia di certe condizioni di lavoro diventa centrale negli artisti di questa generazione. Questa è un'opera straordinaria di un artista altrettanto straordinario che è Angelo Morbelli. Morbelli potremmo già cominciare a catalogarlo fra i divisionisti anche se non tutta l'opera di Angelo Morbelli è opera con pennellata divisa ma in alcuni dipinti adotta questo tipo di pennellata. Morbelli racconta in modo straziante perché è un artista triste Morbelli, è un artista drammatico che si fa cantore potremmo dire di tutti quegli strati della società più infelici, più emarginati, quindi gli anziani ad esempio che cominciano a vivere negli ospizi, una situazione che fino ad allora era impensabile, le famiglie vivevano ancora tutte insieme nei palazzi, nelle cascine, invece ora comincia la società moderna anche in Italia anche nei suoi aspetti più deteriori come appunto le famiglie divise, gli anziani negli ospizi e via dicendo. Ecco Morbelli è un drammatico narratore di situazioni di questo tipo oppure le condizioni di lavoro estreme di alcune professioni come quella delle mondine, questo lavoro splendido di Angelo Morbelli si chiama Per 80 centesimi e quel titolo è importante perché Per 80 centesimi è il ridicolo stipendio che prendevano le mondine per rovinarsi la vita perché era uno delle professioni più dannose per la salute che ci fossero, eccole qui, chine sulle loro risaie che raccolgono il riso. Questo taglio con questa prospettiva dal basso, questa infilata delle linee della risaia, è un'opera bellissima anche dal punto di vista tecnico, dal punto di vista dell'inquadratura e Morbelli è un artista che va assolutamente guardato con attenzione, a volte molto triste ma sempre profondamente riflessivo, profondamente intenso. Guardate ad esempio questo tondo con questa ragazza malata di tisi e quella nuvola che fuoriera assolutamente di un triste destino che arriva in lontananza, con tutta questa malinconia che è una malinconia che sta in bilico fra la denuncia di una condizione sociale, di una condizione emotiva, umana molto forte, molto triste ma anche un po' quello che si diceva, cioè il simbolismo, la volontà di guardare oltre, qualcosa di trascendente che l'uomo dovrebbe ricominciare a prendere in considerazione. E in alcuni casi emerge con più evidenza e più veemenza l'aspetto politico della situazione, perché in questi anni indubbiamente in Italia comincia a diffondersi e lo fa con una certa forza anche tutta la questione dell'ideologia socialista, tematiche che Courbet aveva già affrontato in Francia con gli spaccapietre, con i suoi quadri più forti già negli anni 50-60 dell'Ottocento. Ma vi dicevo il ritardo di sviluppo industriale porta anche a un ritardo di sviluppo di certe questioni sociali e di conseguenza anche l'arte segue il passo di quello che è la situazione chiaramente del paese in quegli anni. C'è un quadro di un altro pittore che va molto rivalutato, che è Emilio Longoni, pittore decisamente interessante, lui già divisionista, adesso vedremo anche con quali modalità Longoni affronta la pennellata divisa. In questo dipinto che oggi è di proprietà della banca di Barlassina, Longoni è più che esplicito nella tematica, si chiama l'oratore dello sciopero. Quando Longoni lo dipinse fece riferimento a un fatto realmente avvenuto a Milano ed è un'opera di cronaca, un'opera molto interessante dal punto di vista del soggetto, molto moderna, sia per come la ritrae che per il tema affrontato ovviamente, no? Perché l'oratore dello sciopero è come fosse quasi una fotografia di uno sciopero e lo sciopero è qualcosa di nuovo per la società italiana, di non così diffuso. E vedete che zoomando su un dettaglio ci accorgiamo di come l'ha dipinto Longoni, con queste pennellate larghe, con questi colori vibranti che poi da lontano restituiscono un tipo di visione cromatica molto più morbida e graduata e sfumata. Ancor più divisionista è un altro suo dipinto che va dal punto di vista della tematica in una direzione simile, è riflessioni di un affamato. Eccolo qui. Riflessioni di un affamato ci aiuta a capire il versante chiaramente più impegnato socialmente del divisionismo, ma anche cominciamo a vedere qualcosa di tecnico dal punto di vista proprio dell'uso del tocco di colore. vedete che c'è questo ragazzo affamatissimo che passa davanti alla vetrina di un bel ristorante milanese e guarda con occhi desiderosi ciò che quei due damerini stanno gustando dietro alla vetrina. C'è la denuncia sociale, c'è il racconto quotidiano, c'è la città e qui vi anticipo una riflessione che poi faremo in chiusura. Il divisionismo è proprio l'anticamera del futurismo, come temi, come tutto. E non è un caso che balle e boccioni vengano proprio dall'insegnamento dei divisionisti. Poi ci arriveremo a vedere dove va il divisionismo attraverso la sua pittura. Ma tornando al nostro Longoni, vediamo come lui abbia risolto questo dipinto per piccoli puntini di colore, per piccoli tocchi di colore più che puntini, che guardati alla giusta distanza restituiscono tutte le sfumature del caso. Cos'è il divisionismo italiano? Il divisionismo italiano si basa sulle medesime questioni tecniche, percettive, del pointillismo francese. Gli studi condotti sono pressoché identici, cioè la percezione che il nostro occhio ha di due colori guardati simultaneamente, come questi colori interagiscano fra di loro, la questione dei complementari, la divisione dei tocchi di colore in appunto piccole pennellate, che in Francia sono puntolini. In Italia più diffusamente sono delle linguine, dei tocchi allungati, dei filamenti di pennellata, ma che assolvono esattamente alla stessa funzione. Chi studiò il divisionismo in Italia in maniera attenta fu Previati. Previati è stato un po' il teorico, oltre che essere uno dei grandi interpreti in pittura, poi lo vedremo. Se leggete i testi di Previati e poi leggete i testi di Sorà, vedete che dicevano praticamente la stessa cosa. E da qui l'annosissima questione. Chi l'ha inventato? L'italiani o i francesi? Un po' come il papier collé poi fra cubisti e futuristi, queste questioni di chi è arrivato prima, no? Come se fosse poi così importante. Tutto sommato che differenza fa? Ci sono arrivati più o meno insieme? Sì, in un certo senso sì. Sicuramente i francesi avevano maggior consapevolezza, portata anche dalla presenza dell'impressionismo, che gli ha offerto una base non da poco in questo senso. E gli scritti di Sorà e la granità di Sorà sono veramente una novità dirompente e può darsi che questa novità abbia anche in qualche modo fortificato una tendenza già in atto nella pittura italiana che esplosa poi con maggior vehemenza, con maggior vehemenza. Sicuramente ci sono arrivati un po' insieme, su due binari paralleli, generati da due situazioni diversissime. Perché da una parte c'è tutta quella mondanità, la grand jatte, la senna, la domenica pomeriggio, il moulin della galette, degli impressionisti. Dall'altra invece c'è una questione della pittura italiana che affondava le radici sulla pittura del naturalismo, su pittori come Carcano, come Pusterla, che già prima appunto di arrivare all'interesse di questo tipo, erano artisti che guardavano il vero, la natura, sulla scorta ancora dell'insegnamento appunto degli Induno. Veniva comunque da un mondo completamente diverso dal punto di vista iconografico, delle scelte pittoriche. Insomma, chiaramente è diversissimo l'humus che genera queste doppie rivoluzioni, ma gli esiti non sono poi così differenti. Peraltro Longoni è stato un interessante caso di divisionista anche nell'applicazione al paesaggio. Guardate che bellezza questi paesaggi di montagne con la neve, come Longoni attraverso le conoscenze del divisionismo riuscisse a darci quel senso della luce che si riverbera sulla neve, quel cangiantismo dei fenomeni della luce sul manto nevoso, quest'uso degli azzurri, dei violetti, fatti con una logica nuova, non è più solo il plenare, mi metto davanti alla montagna e la ritrago, qui c'è qualcosa di più. Vedete che c'è sempre anche un po' un clima sospeso, certo nei quadri che raccontano la società cittadina questo non c'è, non si osserva, ma se voi guardate invece i dipinti come questi sentite che c'è comunque un'aura simbolista, sottesa, quasi come se anche questi paesaggi fossero un po' delle visioni e non dei paesaggi reali. Nascono dal vero e si elevano in un'altra direzione. Tra l'altro Longoni era interessantissimo perché era anche un grande sperimentatore e per esempio usava delle tecniche che sono state poi usate, cioè che venivano usate nella norma dei restauratori, cioè tecniche che servivano a fondere le pennellate, perché quando un restauratore dà un tocco di pennello su un colore già presente, ne dà uno nuovo, poi molto spesso usa stirare il quadro per fondere col calore i tocchi, quelli nuovi e quelli preesistenti. Con Longoni faceva la stessa cosa con le sue tele, stirava le tele a rovescio appena realizzate per avere questo senso di fusione dei tocchi con effetti di cangiantismo decisamente molto interessanti. Longoni meriterebbe più attenzione senza margine di tubo, è stato un artista straordinario ma non è famoso come Segantini o come altri artisti della sua generazione anche per una difficoltà di carattere e anche per una serie di eventi che hanno riguardato il suo rapporto con il suo gallerista, Vittore Grubiside Dragone e Alberto Grubiside Dragone, due fratelli, Vittore era anche pittore, che avevano lanciato in qualche modo il divisionismo. Vittore era un commerciante d'arte ma era anche un critico e lui stesso era un artista. Sono interessanti le opere di Vittore Grubiside Dragone, eccone qua una ad esempio, molto nota, mare di nebbia in cui vedete lui addirittura incollato, ha messo questo foglietto a trompe l'oeil come se ci fosse una poesia incollata sulla tela ed è una frase che in qualche modo rende poetica la scena di questa nebbia, già di per sé nebbia, romanticismo proprio evidentissimo, un paesaggio che più simbolista di così non si può. Un po' ci dà una sensazione quasi di un paravento giapponese con queste linearità, queste silhouette degli alberi e un po' c'è questo mondo sospeso, incerto, nebbioso, tanto caro all'estetica simbolista. Anche altri suoi dipinti vanno proprio nella medesima direzione, guardate questi alberi, sembrano quasi delle poesie rese immagini. Vittore incarnava proprio questo aspetto molto giapponese ma anche molto sofisticato, molto onirico del divisionismo. Come gallerista però Grubiside Dragone fu in un certo senso anche scorretto perché sappiamo che proprio grazie alla sua azione avvenne un po' la rottura fra Emilio Longoni e Giovanni Segantini perché una volta ha capito che i quadri di Segantini vendevano meglio perché Segantini era più noto, che cosa faceva Grubiside? Faceva firmare a Segantini i quadri di Longoni. C'è un caso abbastanza eclatante che è la tela che vedete qua con queste due suorine, soggetto molto caro alla generazione che stiamo vedendo, molto bello il dipinto, molto poetico, molto armonioso, fatto da Longoni ma sulla cornice ancora oggi c'è una bella targhetta che dice Giovanni Segantini. Questo perché appunto c'era quest'uso di vendere come Segantini i quadri di Longoni. Ovviamente quando Longoni lo venne a sapere non ne fu felice e se la prese anche con l'amico Segantini perché non si era opposto a questo perverso meccanismo a cui il gallerista l'aveva in qualche modo sottoposto. Questo è uno dei motivi per cui Longoni non è poi più così famoso perché decide piuttosto di sottostare a questo tipo di questioni, lui decide di andarsene, di allontanarsi dal sistema e quindi continuerà a dipingere ma meno presente nel mondo artistico del tempo. Abbiamo citato Segantini, Segantini è certamente uno di quegli artisti da cui bisogna passare se si vuole parlare di divisionismo e Segantini arriva al divisionismo dalla porta della scapigliatura. Questo è un elemento che non abbiamo ancora sottolineato ma che è fondamentale per la comprensione del percorso che stiamo facendo. La scapigliatura aveva introdotto a Milano, a Milano ed intorno, diciamo fra Milano e il Piemonte, la Lombardia e il Piemonte, un nuovo racconto anche dal punto di vista iconografico e pittorico, contorni sfumati, un certo tipo di dinamicità della pennellata, ma soprattutto il racconto di una nuova borghesia, di una nuova classe sociale, di nuovi mondi e Ranzoni, Tranquillo Cremona, ne erano stati i grandi protagonisti, qui vedete alcune loro opere molto note e c'è questa discendenza da parte della scapigliatura di una serie di giovani artisti che si avvicinano al mondo, al mood della scapigliatura nei loro primi dipinti. Uno di questi è certamente Segantini, questo bel naviglio a San Marco con questi ombrellini, questi colori così luminosi. È un Segantini giovanile che oggi peraltro si trova nei musei di Lecco su prestito a lunga scadenza di un collezionista privato e questo dipinto già ci riconduce a un Segantini non ancora divisionista che abita ancora a Milano, così come è importantissimo nella sua produzione questo lavoro che si trova a Pavia che è il ritratto di Bice, la sua Bice, la donna della sua vita. Bice era una Bugatti, la famiglia che da lì a breve avrebbe fondato la nota azienda automobilistica, ma anche la sorella di Carlo Bugatti che è uno dei designer più interessanti dei primi del Novecento. Incredibilmente la famiglia consentì che Bice seguisse Segantini nella sua fuga dalla civiltà. Segantini vi ricordo era polide perché era nato ad Arco di Trento, quindi austriaco. Era venuto ad abitare a Milano da ragazzino e aveva deciso con la sorella di rinunciare alla cittadinanza austriaca ma non avevano mai chiesto quella italiana. Così Segantini si ritroverà senza documenti, senza appartenenza e comincerà una inesorabile fuga dalla civiltà dovuta a diversi fattori. Una, certamente un fattore fu quello di cercare la libertà, cercare un paradiso perduto, spostarsi dal caos cittadino, cercare un altro mondo più consono al suo ideale artistico e alla sua necessità creative. Ma poi c'era anche una questione pratica perché Segantini era un po' ricercato dalle polizie di tutto il mondo perché in realtà lui avrebbe dovuto fare il militare in patria dove era nato, però anche l'Italia in qualche maniera era la sua nuova patria e quindi avrebbe voluto averlo nelle armi tanto quanto come l'impero austro-ungarico e allo stesso modo la Svizzera che lo aveva accolto come nuovo cittadino nelle sue perinegrinazioni aveva da chiedergli tasse e quant'altro e Segantini fuggiva un po' da tutti i governi e come Apolide, Apolide nel pensiero proprio. Lui ebbe una vita sempre da outsider, da fuori dagli schemi, una vita che addirittura sfidava i perbenismi e le consuetudini sociali del tempo, con Bice ebbe figli ma non li battezzò, non sposò mai Bice Bugatti anche perché non avendo dei documenti di identità non avrebbe neanche potuto. Quindi una serie di scelte esistenziali incredibilmente fuori dal sistema che lo rendono un personaggio molto interessante ma rendono forse ancora più interessante Bice che nonostante le sue origini alte, la sua famiglia altolocata segue convintissima per tutta la vita l'amato Giovanni e non solo, diventa la sua musa e anche un po' la sua parte intellettuale perché Segantini era un ragazzino di strada, aveva imparato a disegnare in riformatorio e lei gli dà tutte quelle conoscenze, tutta quella cultura di cui lui ha bisogno per farsi strada anche come artista. Sicuramente la Bugatti è un personaggio su cui si potrebbe tornare e raccontare molto ma oggi a noi interessa soprattutto vedere lo stile di questa falconiera che è un quadro che potrebbe veramente aver dipinto anche un tranquillo Cremona, cioè un quadro con soggetto medievale in cui lei viene trasformata in una giovane dama con il falcone, quindi siamo proprio in un ambito pittorico vicinissimo a quello classico della scapigliatura. Ma quando Segantini si allontana dalla città e comincia a frequentare sempre più in là, diciamo prima la Brianza e poi le vette alpine salendo fino poi a dove si stabilizzerà nell'ultima fase della vita, si stabilirà nell'ultima fase della vita, Gesù nell'ingadina a San Moritz, ecco lì Segantini comincia a scoprire anche il soggetto agreste. Ci sono dei dipinti straordinari, dipinti in queste sue peregrinazioni, uno dei primi e più significativi anche per capire come lui dipingesse è alla stanga questo lavoro che vedete nell'immagine che tra l'altro ha un episodio che a mio avviso è piuttosto significativo. Segantini non è un pittore en plein air e in questo c'è tutta la distanza rispetto all'impressionismo, perché un pittore impressionista si sarebbe messo davanti alle mucche e l'avrebbe dipinte con quattro pennellate per catturarne in qualche modo l'essenza e se anche non fosse stato davanti alle mucche avrebbe provato ugualmente a rendere l'idea di un'istantanea, di un'impressione del vero. Invece Segantini costruisce i suoi paesaggi come se mettesse in scena una natura morta. Lui addirittura, vedete che una mucca si sta leccando il costato, lui per ottenere quel risultato, per ottenere quella posa della mucca, fa sì che la mucca gli taglia il costato leggermente per far sì che la mucca si leccasse il costato e quindi fosse nella posizione da lui desiderata. Tutti i quadri di Segantini sono costruzioni che lui immaginava perfettamente a tavolino, metteva in scena e il risultato è quello però di una scena molto credibile della vita quotidiana nelle valli. Il suo massimo esempio è un artista molto significativo, un artista che era vissuto in Francia qualche decennio prima, François Millet. Le sue spigolatrici ad esempio, il grande capolavoro di Millet, sono un po' l'anticamera delle contadine che lavorano nella valle di Segantini, perché Segantini con Millet ha una questione in comune che va ben oltre il dipingere contadini al lavoro, è quella della spiritualità. Quando Millet dipinge quadri come l'Angelus ad esempio, fa un quadro che è evidentemente mistico, trascendente spirituale, direi quasi sacro. Ecco questa visione sacrale della vita nelle valli, della vita nella montagna, è quella che rende i quadri di Segantini qualcosa di ben diverso dall'impressione di un momento di vita vissuta. Ave Maria al trasbordo è uno degli esempi più classici da questo punto di vista. Questa famiglia, il gregge, è un quadro struggente, malinconico, morbidissimo, ma nello stesso tempo, chiaramente molto poetico, ma nello stesso tempo in grado di suggerire letture spirituali, mistiche, quasi sacre per l'appunto. Tecnicamente sono già opere risolte con un uso molto intelligente del divisionismo. Segantini non userà mai il divisionismo pulito, tecnicamente diciamo esatto, come invece per esempio farà Previati o come abbiamo visto farà Grubisi de Dragon. Segantini utilizzerà sempre il divisionismo quando gli serve, cioè avrà un rapporto molto libero con la pennellata divisa che saprà mediare con altro tipo di pennellata. Uno dei suoi capolavori dal punto di vista della tecnica divisa, dove si vede molto bene questa pennellatina filamentosa di cui vi parlavo, è certamente Le due madri, opera capitale della produzione di Segantini, oggi conservata alla Galleria d'Arte Moderna di Milano. Ecco la mucca con il suo vitellino, la mamma col bambino. Ovviamente sono immagini di una sacralità straordinaria. Da una parte c'è la lettura molto vera, concreta, della mamma che è andata a portare il suo piccolo nella stanza più calda della casa, la stalla e quindi c'è una lettura sociale molto molto sensibile, molto vera, molto toccante, anche impegnata socialmente e dall'altra però c'è una lettura della maternità che è chiaramente sacrale, che chiaramente si rifà un'iconografia mistica. Segantini non era un uomo di fede, anzi nelle sue lettere che scrive un amico sacerdote spesso e volentieri si sente questo bisogno di capire, un'esigenza di risposte. Era un uomo però profondamente ascetico, mistico, che guardava a Dio in una maniera non fideistica, non legata a un credo nello specifico, ma a qualcosa di più panteistico. Le sue montagne sono Dio, i suoi greggi, le sue contadine, le sue valli. È come se Segantini sentisse il potere della natura, quasi una sensazione da sublime romantico e la sua idea di vita, di morte, dello scorrere, dell'esistenza, la si può raccontare proprio semplicemente guardando, osservando la vita nelle valli, guardando e osservando la vita quotidiana che scorre appunto sulle montagne. Ci sono opere di Segantini più vicine al simbolismo tucur, non so, l'angelo della vita o l'amore alle fonti della vita, entrambi i capolavori che stanno alla Galleria d'Arte Moderna di Milano. L'amore alle fonti della vita poi credo che sia veramente un'icona del simbolismo italiano. Anche qua la pennellata divisa, vedete, si fonde a un soggetto che è chiaramente di stampo simbolista, di natura simbolista. Questi due giovani anime che camminano in un Eden visionario, onirico, assolutamente diciamo avvolgente con questa sorta di angelo dalle grandi ali che li aspetta. E sullo sfondo vedete le sue montagne però, paesaggi reali, paesaggi concreti che diventano scenografia per mondi che non sono affatto reali e concreti, anzi sono immaginifici, onirici, simbolisti per l'appunto. E così il castigo delle lussuriose, il castigo delle cattive madri, sono tutte opere che ci portano senza margine di dubbio nel contesto simbolista. Ma in altri casi questo contesto è meno evidente. Nelle opere più vicine al racconto della vita quotidiana nelle valli siamo portati, sbagliando, a vederci delle scene di vita quotidiana, non in qualche modo dimenticandoci che anche in queste scene di vita quotidiana dietro c'è una lettura profondamente mistica di ricerca della spiritualità. Quando Segantini aggiunge quella nuvola nera che vedete all'immagine di questa contadina china che raccoglie con il suo rastrello le fascine di legno, vi rendete conto che il fatto che l'abbia aggiunta e si vede proprio la cucitura dove ha cucito un pezzo in più di tela per metterci quella nuvola, non può essere una casualità. Se Segantini ha aggiunto quella nube è perché ha ritenuto che quella nube fosse una sorta di aiuto alla lettura di questo dipinto. La nube è l'avversità che arriva, il tempo che cambia, la pioggia, il brutto e quindi l'avversità della vita e la contadina cosa fa? Continua a lavorare, fa il suo lavoro, il ciclo della vita. Ed era proprio questo, il ciclo della vita, ad essere alla base della sua ultima opera, un trittico straordinario che oggi si trova al museo di St. Moritz. Lui saliva sullo Schaffer per dipingere dal vero questa scena che lui immaginava in un trittico essere un po' simbolicamente il ciclo della vita, la nascita, la morte e l'esistenza. Era un lavoro gigantesco che doveva esporre all'esposizione internazionale per l'engadina, per il padiglione dell'engadina a Parigi. Segantini cominciava a diventare anche abbastanza famoso, pensate che era andato a trovarlo anche Gustav Klimt, quindi era un personaggio che cominciava a richiamare anche a livello internazionale delle attenzioni di giovani pittori che volevano capire la sua opera, lo ritenevano un maestro e lui si era impegnato anima e corpo in questo trittico, qualcosa di più grande di lui. Tanto è vero che proprio mentre dipingeva in montagna venne colto da una crisi di peritonite di cui lui già aveva avuto le prime avvisaglie trascurate completamente e quando arrivarono i dottori era troppo tardi perché non c'erano gli elicotteri chiaramente, quindi non riuscirono a portarlo giù dalla vetta e morì, per una banalità che probabilmente se fosse capitata in città lo avrebbero anche potuto operare e sarebbe potuto sopravvivere. Quindi questa morte improvvisa di Segantini crea un vuoto importante proprio all'inizio del secolo, alla fine dell'Ottocento, proprio lo scarto del secolo, nel 99, crea un vuoto immenso nella scena del divisionismo italiano e del simbolismo italiano. Ma Segantini non è l'unico interprete di questo mondo. L'altro grandissimo nome che dobbiamo citare è quello di Gaetano Previati. Anche Previati ha un percorso simile a quello di Segantini. Guardando ad esempio questo Paolo e Francesca, noi riconosciamo tutto quel mondo letterario, visionario, un po' tra romantico e il contemporaneo, il moderno della scapigliatura. Ci sono scene che vanno in una direzione anche di racconto un po' bodelleriano che ci porta proprio in un contesto di decadentismo di cui Previati è assolutamente rappresentante, come queste fumatrici doppio. Quadro di grandi dimensioni, molto molto interessante dal punto di vista proprio della composizione, del mondo, della scena ritratta. Ecco, questo primo Previati è vicinissimo anche nello stile al contesto scapigliato. Ma poi piano piano Previati si avvicina al divisionismo e adotta la pennellata divisa di cui appunto vi parlavo tecnicamente, prima diventandone tra l'altro uno dei massimi teorici. Guardando ad esempio questa sua natività ci rendiamo conto che Previati esegue in perfetta tecnica divisa, pennellate divise, opere dal significato religioso, mistico, spirituale, direi esplicito. Ecco, Previati è proprio la faccia simbolista per eccellenza del divisionismo italiano. Guardate anche questa Madonna dei Gigli, possiamo confrontarla alle due madri di Segantini per sentire proprio i due mondi, no? Queste scelte diverse per dire poi alla fine la stessa cosa, no? Lo stesso senso dell'iconografia simbolista, espressa però con due tensioni, due mentalità, due concetti completamente diversi. Tutte le sue immagini dedicate al Re Sole ad esempio, o al sole, al carro del sole, con queste figure potentissime. Ad esempio guardate questa che è proprio il carro del sole, o questa forse ancora più famosa, il giorno che sveglia la notte, un'immagine bellissima di una intensità emotiva e visiva straordinaria in cui, con grande evidenza, la tecnica divisionista si sposa oltre che al côté simbolista anche a quello che poi noi definiremo l'art nouveau, perché il divisionismo ce lo ricorda in ogni opera, non esistono compartimenti stagni. Quindi l'art nouveau, che è il gusto tipico di questi anni, non può non relazionarsi con gli artisti come appunto Previati, come gli artisti di questa generazione, che ne sono perfetti interpreti. Il nouveau sposa il simbolismo, abbraccia il divisionismo, diventa poi stile architettonico di gusto, di design, di vita quotidiana, ma artisticamente noi troviamo questa linea sinuosa, morbida, tipica del nouveau già nelle opere del nostro Previati e di molti dei pittori divisionisti. Dunque il divisionismo italiano si colloca proprio in una dimensione un po' ibrida, un po' sfumata, che vaga dal simbolismo all'interesse per il vero sociale, che potrebbero sembrare un po' uno simono le due cose, tutto sommato, da una parte la visione, il sogno, le cose più intangibili e trascendenti, dall'altra la banale quotidianità, dolorosa quotidianità di un ospizio piuttosto che delle mondine al lavoro o di un affamato che guarda due signorotti che mangiano. Ecco tutto ciò convive armoniosamente nel mondo divisionista, perché innanzitutto il divisionismo come vi dicevo non è una tendenza, un movimento, il divisionismo è una tecnica. Quindi con quella tecnica della pennellata divisa si può dipingere qualsiasi cosa, quindi è sbagliato paragonare il divisionismo al romanticismo, perché quelli sono movimenti culturali. Il divisionismo va paragonato invece alle tecniche artistiche, quindi come dire lo stesso impressionismo, l'impressionismo può essere applicato a qualsiasi tipo di soggetto, tecnica pittorica con sfumature diverse anche dal punto di vista dei linguaggi, ma diciamo un medesimo sentire che rende l'impressione di un momento vissuto, poi se si vogliono dipingere bagnanti, gente che fa un picnic o la senna ghiacciata o la cattedrale di Rouen non è così importante. Il divisionismo è una tecnica pittorica che può essere applicata quindi a scene, iconografie, personalità, soggetti molto diversi. Ovviamente però viene da sé questa tecnica getta le radici in contesti specifici, quindi se in Francia getta le radici del contesto impressionista e ne scegli in qualche modo i soggetti più peculiari, come la vita quotidiana della borghesia, come certe scene di vita all'ample nera, all'aria aperta e quant'altro, i paesaggi, viene da sé che invece in Italia il divisionismo affonda le radici nelle tendenze già in atto nell'arte italiana, quindi da una parte il simbolismo, lo sguardo verso il trascendente, il mistico, lo spirituale, il sogno e dall'altra invece la questione sociale che era molto diffusa e diventata urgente, diciamo così, nell'Italia del tempo. E come vi dicevo, spesso insieme, spesso nello stesso artista, se non addirittura nello stesso quadro, come nelle due madri di Giovanni Segantini. In questa contaminazione di mondi, fra l'impegno sociale e lo sguardo altro, mistico, spirituale, noi ci mettiamo soprattutto un artista con cui chiudiamo il nostro incontro di oggi, che però è veramente uno dei più grandi protagonisti del divisionismo italiano. Questo artista è questo signore che vedete in questo bellissimo autoritratto, Pelizza da Volpedo. Pelizza da Volpedo è un grande interprete di tante cose, sfortunato, drammatico personaggio. Giuseppe Pelizza da Volpedo si suiciderà, sappiamo bene, nel 1907, lui era nato nel 68 e la sua vita sarà una vita tragica, intensa, ma la vita di un artista che produrrà delle opere meravigliose, delle opere che si collocano perfettamente nel contesto di cui stiamo parlando oggi in questo nostro incontro. Una delle opere più giovanili di Pelizza è Un triste ricordo, che oggi è la Carrara a Bergamo, in cui Pelizza si colloca proprio in quel mondo, ancora di questione sociale un po' sentimentale, vagamente romantica, che presto abbandonerà per opere come ad esempio La Processione. Quest'opera del 1892, che oggi sta in Museo della Scienza e della Tecnica di Milano, è un'opera che ci apre al mondo, ci apre bene al mondo di Pelizza da Volpedo, perché ha questo senso di sacralità, ma nello stesso tempo ha l'attenzione per il vero nei riverberi, nei riflessi della luce sul selciato, nell'uso della pennellata a colore di viso, per l'appunto, con questo senso del vero coniugato però a questo clima un po' sospeso, un po' mistico, che pervade tutta la produzione di Pelizza. Uno dei suoi capolavori è Speranze deluse del 94, questo lavoro che racconta un episodio triste della vita quotidiana di una pastorella, vedete che lei si è girata per non guardare con aria affranta quello che succede alle sue spalle, ovvero il corteo nuziale di quello che probabilmente era l'uomo che lei avrebbe desiderato, l'uomo che lei avrebbe voluto come suo marito e che invece ora sta convolando a nozze con un'altra donna. Questa è un'opera di una malinconia struggente, guardate come lei chieni il capo triste e le pecore che sembrano volerla consolare, con questo atteggiamento dolcissimo, ma guardate anche come tecnicamente Pelizza utilizza in modo saggio la pennellata divisa, il riverbero della luce sul vello delle pecore, tra l'altro anche Segantini usava l'oro, usava l'oro per dare quel senso di brillantezza, soprattutto per quando dipingeva proprio il vello delle pecore, piuttosto che elementi in controluce, quindi questo senso della luce straordinaria che c'è e che la pennellata divisa esalta sicuramente. Quindi questa scena fra racconto sociale, sentimento più assoluto, costruita perfettamente, perché vedete che è una costruzione spaziale a triangolo, che rende la scena centrale come ineludibile, intorno a cui gira tutto il resto della composizione, c'è questo senso compositivo straordinario, così come sceglie invece la linea orizzontale per un altro capolavoro, lo specchio della vita, ciò che l'uno fa, le altre fanno, verso dantesco, che ben riflette simbolicamente quello che il quadro rappresenta, l'umanità, con quelle pecore che vanno tutte nella stessa direzione, come un gregge, qualche l'una fa, le altre fanno, senza sapere perché, chi siamo, dove andiamo, da dove veniamo di Gauguin, questa umanità che va avanti come un gregge nella sua condizione, senza conoscerne poi le ragioni e i grandi misteri. Ma Pilizza ovviamente sa anche essere più impegnato socialmente, come ben ci rappresenta il suo capolavoro, il quarto stato e per ricordarcelo possiamo passare anche da questo ritorno dei Naufraghi al paese, un quadro agghiacciante, molto forte, qua si vede molto bene la pennellata di tocco, vedete l'uso di questa luce riverberante che utilizza sapientemente l'artista e nello stesso tempo qui siamo proprio nel pieno di quella tradizione iconografica sul contesto sociale di cui vi avevo fatto cenno con i martiri del lavoro, con i morti sul lavoro del Vela, in cui appunto c'è la stessa identica scena, cioè la barella, la figura morta che passa, questa tragedia che è un po' denuncia, è un po' il senso della vita, di nuovo siamo proprio in bilico fra una lettura squisitamente socialista direi e invece una lettura più assoluta delle ragioni della nostra esistenza, un po' diciamo della difficoltà esistenziale. Il fatto che Pelizza si sia suicidato subito dopo aver prodotto il suo capolavoro, il quarto stato, vi dà anche l'idea di come fosse impegnato nella sua arte, probabilmente anche il fallimento di quello che lui pensava sarebbe stato un quadro definitivo per lui, per l'appunto il quarto stato, segnò profondamente la sua storia, lo lasciò svuotato senza più motivi di andare avanti. Il quarto stato è un quadro complesso, un quadro che spesso è stato utilizzato anche un po' sproposito, facendolo diventare un po' un poster, un manifesto, svuotandolo delle sue complessità pittoriche, ma anche delle complessità che l'hanno generato. Innanzitutto per arrivare al quarto stato che noi datiamo 1901 molto genericamente, ma che in realtà occupò cinque anni della vita di Pelizza nella ricerca, nella realizzazione attraverso decine e decine di disegni, attraverso fasi preparatorie diverse, una è Fiumana, oggi conservata a Brera, a cui poi arriverà con calma la versione definitiva che oggi è conservata al Museo del Novecento di Milano. Vi dicevo disegni, studi preparatori, perché tutti i personaggi del quarto stato sono persone esistenti. In carne ed ossa la donna col bambino in primo piano è sua moglie con il figlio tra le braccia, con il loro figlio tra le braccia e tutte le figure altre sono tutti abitanti di Volpedo che stanno posando appunto in questa Fiumana di persone che marcia. Chi sono queste persone? Non sono operai, sono contadini che stanno andando in città, che diventeranno i futuri operai e i contadini di Volpedo formano una nuova classe sociale, il quarto stato, che ora sta prendendo coscienza di sé. Marciano per i propri diritti, marciano per il proprio futuro, soprattutto marciano. E mi sembra una cosa importante perché fino ad allora la povera gente era sempre stata raccontata mentre chiede le lemosina, mentre tenta di vendere dei fiorellini sfioriti e invece le persone del quarto stato sono molto coscienti, non ci stanno chiedendo proprio niente se non i diritti che gli spettano appunto di diritto, che sono loro assolutamente di dovere. Ecco questo cambio è importantissimo, non più poverino, ma io ci sono, sono qui, sono presente e voi dovete fare i conti con me. Sono una nuova classe sociale, il quarto stato per l'appunto. Forse è per questo che è così importante questo dipinto, perché riveste un ruolo ideologico, storico, oltre che formale, perché qui la tecnica divisionista arriva a un livello altissimo, simbolico, riveste diversi, diciamo, motivi che ne fanno veramente una delle opere capitali dell'arte italiana di tutti i tempi, giustamente molto molto nota. Purtroppo oggi è conservata al Museo dei Novecenti in una posizione che a mio avviso non è affatto felice, lo si vede male, contro luce, troppo vicino, non è il modo migliore per guardare il quarto stato, ma è un quadro che dal vero svela moltissimi dettagli decisamente interessanti, anche dal punto di vista tecnico, come ad esempio il baluginare della luce sul muro sulla sinistra, certe finezze delle gestualità, ogni figura ha un gesto diverso, un'espressione diversa, certi dettagli bellissimi che ci lasciano ampiamente capire, perché Pelizza ci mise così tanto a realizzarlo, perché credette così tanto nella sua opera. L'affallimento del quarto stato, unito alla morte del figlio e della moglie, gettarono Giuseppe e Pelizza da Volpedo in una disperazione da cui non riuscì più a emergere, si impiccò nel proprio studio lasciando altri due figli e i genitori anziani e chiudendo di fatto con la sua morte una storia d'artista altissima, straordinaria. Con la lezione di questi pittori andò molto lontano, oltre a tutti gli altri divisionisti, Barabino, Fornara, ce ne sono tantissimi che dipinsero in quella direzione con lo sguardo verso i padri del divisionismo, noi rintracciamo l'eredità divisionista nell'opera ad esempio di tutti i padri del futurismo, Balla, Boccioni e tutto sommato la bambina che corre sul balcone di Balla è un divisionismo amplificato verso una tendenza contemporanea, con quelle tacche di colore, ma che dire di officina porta romana, di Boccioni, se non è un quadro di un divisionismo evoluto verso un contesto assolutamente contemporaneo. Dunque il divisionismo per l'Italia è stato uno snodo, un anello di congiunzione, un punto di non ritorno molto importante, che va valutato nel contesto italiano e nel contesto di un momento storico, ma che ha lasciato tecnicamente e iconograficamente profonde solchi, molto profondi e un'importante eredità anche sulle generazioni future. Bene, ci vedremo prossimamente, chissà se a video o di persona, temo nel caso specifico ancora video, ma spero proprio che al più presto potremmo rivederci anche dal vero, con un altro gigante dell'arte italiana, Raffaello Sanzio, che sarà l'oggetto della nostra prossima conferenza di Villa Greppi per l'arte. Voi state a casa, Villa Greppi non si ferma per fortuna e continuerà a portarvi l'arte e la cultura a domicilio. Grazie, arrivederci.